bene amiche e amici buonasera michele erbucci dimmi di te questa sera per essere utile a tante persone che ci guarderanno in in questo video intervistiamo dario canepa dario ciao benvenuto ciao michele buonasera a tutti gli ascoltatori bene dario è una persona che ha tante cose da raccontarci quindi lasciamo subito la parola a lui e diciamo che è uno scrittore oltre che un personal trainer come è nata questa passione di scrivere dario prego ma dunque io non ho mai pensato di essere uno scrittore ma lo sono diventato un po per caso anche se oramai non credo più alla casualità diciamo che una questione che riguarda il libro io alcuni amici testimoni dicevo oppure non essendo io un testimone diceva con i quali è sempre avuto delle discussioni molto garbate perché sono sempre persone molto gentili ma amici per cui diciamo che diciamo che mi sono trovato a conversare spesso con loro mi senti michele e si ok perfetto che non ti vedevo più sei sparito per un attimo e queste persone qui mi sono reso conto che io non ero in grado di contestare più di tanto ciò che loro mi chiedevano mi spiegavano ma non mi scrivevo un po tutto ciò che che scoprivo e questi appunti qua durante il lockdown di marzo praticamente mi sono ritrovato a a mettere assieme tutti questi appunti perché volevo dargli una logica metterli un po un po bene a questo punto poi mi è venuto a voglia di far rileggere una mia carissima amica debora è una coach spirituale glielo mandato e gli ho detto dimmi la verità di quello che pensi lei che è una molto molto sincera mi ha detto chiaramente che gli era piaciuto tantissimo l'ha fatto leggere a una la sua editrice che si chiama lara bellotti persona da avere in gamba che ha voluto pubblicarlo e da lì è venuto fuori un po questa questo libro quindi non ho mai pensato però alla fine poi è venuto fuori bene ci scusiamo con i nostri spettatori perché alcune volte va e viene ma credo che ha detto tutto molto bene dario e se vuoi far vedere il libro parlaci magari dove lo troviamo cosa come come lo strutturiamo perché l'argomento è molto molto interessante e quindi bravo dario perché parla anche di spiritualità ci ha detto che stai facendo un percorso iniziato con debora e lara che poi salutiamo sì è un percorso diciamo particolare che mi ha portato infatti a un cambiamento proprio interiore che non è la religiosità ma la spiritualità che sono due cose molto diverse quelle quali sto decisamente meglio e questo libro tratta sia di questo che delle diciamo particolarità che hanno in questa in questa congregazione che ho potuto mettere assieme in modo molto semplice che che ha dato a tutti e che hanno trovato interessante che persone che diciamo non sono molto interessate a questo genere di argomenti perché è molto curioso e tante cose non si sanno hanno detto che è interessante non posso dirlo io perché sono lo scrittore lo diranno i nostri lettori che il libro adesso ci dici dove appunto lo possono trovare e praticamente parla se ho capito bene di spiritualità di un percorso e dei testimoni ceva è piaciuto anche gli stessi testimoni diceva perché ne parla in maniera molto molto intelligente non critico non critico e testimoni perché non mi sembra giusto degli amici che sono delle bravissime persone hanno le loro idee ognuno deve avere le proprie idee parlo delle cose delle quali non sono molto convinto ma non do dei veri e propri giudizi penso che sia giusto che il lettore gli ai giudizi perché loro citano dei versetti della bibbia io metto quello che secondo me rappresenterà eccetera eccetera comunque è una cosa abbastanza curiosa dove lo possiamo trovare ci puoi fare poi metteremo tutti i link in descrizione naturalmente i nostri ascoltatori potranno fare clic e acquistare il libro dove ma la casa editrice you can print che si trova tranquillamente su internet che è la casa principale però poi si trova anche su tutte le altre piattaforme come amazon giardino dei libri ce ne sono tante si trova su tutte quante basta scrivere il nome del il titolo del del libro e viene fuori immediatamente con la recensione che noi metteremo certo e ci fai vedere il libro prima di salutare i nostri amici così prendono ancora appunti appunti sui testimoni di geova e sulla spiritualità bene dario io ne ringraziati ti lascio l'ultimo minuto per salutare i nostri le nostre amiche nostri amici a dimmi di te di michele bucci e se vuoi raccontarci qualcosa di personale non è addito cioè l'ultimo minuto per te grazie ancora dario grazie per gli spettatori allora una cosa simpatica è che il mio percorso ha iniziato proprio rivedendomi con la debora picelli che è una mia carissima amica punto una cosa spirituale ci siamo dati appuntamento in un bar e non ci ricordavamo dopo neanche due settimane il perché ci siamo andati appuntamento e come che è una cosa molto particolare che dimostra che non esiste la casualità e da lì poi io ho iniziato a studiare e vivo molto meglio come lei vive molto meglio in thailandia quindi questa è una cosa molto particolare speciale nella mia vita bene però credo di capire che si vive bene anche in italia qualsiasi parte assolutamente è intelligente e ricerca delle cose che gli fanno bene bene dario assolutamente sì ti ringrazio eh personal a te lavoro in ospedale ne fai tantissimo faccio sicurezza in ospedale adesso faccio sicurezza in ospedale però il mio lavoro è sempre stato personal trainer sì oh bene bene e tifi anche una bellissima squadra di calcio che se ce la vuoi nominare è la sandoria poi magari non piacerà molto al genuani ma io sono sportivo e quindi io guardo sempre tutte e due le squadre bravi insieme il calcio lo sport è bello essere sportivi beh assolutamente ci insegna anche questo della vita vero dico bene è molto importante lo sport mi ha portato ad essere molto più equilibrato avendo fatto una vita sportiva quindi avendo insegnato benissimo grazie e michele buccia dimmi l'idee grazie a dare o canepa alla prossima salve grazie a te michele salve a tutti arrivederci